Buongiorno a tutti e benvenuti al Tg Sport di Outdoor Reposizione Nord Est, RDA1 e Stab Radio. Vediamo subito e vedremo subito le notizie veramente clamorose della nostra regione e anche dal mondo dello sport, veramente tantissime notizie perché oggi essendo l'ultimo giorno di calcio mercato ci saranno varissime notizie importanti per i web ascoltatori di RDA1 e Stab Radio e soprattutto anche per noi. Andiamo subito a vedere le clamorose notizie che è accadute ieri pomeriggio sera, intorno diciamo alle 5-6 di pomeriggio. Arriva Maxi Lopez, va via Terò e Pozzo blocca Ianto. È successo che il Cyril Terò non è più dell'Udinese, è della Fiorentina. Poi Maxi Lopez è stato agganciato con una clausa annuale per un'azione del secondo anno consecutivo e quindi ci sono stati vari veramente cambiamenti per l'attacco dell'Udinese. Ancora Udinese, calcio mercato non solo Teril e Jakub ma anche Angela ha il mal di pancia. ginnastica ritmica, Alexandra lontana dal podio è settima ma che spettacolo. Andiamo proprio a vedere le grandissime notizie di calcio mercato in live in questo momento. Ci sono tantissime notizie soprattutto visite finite per Nani e Zapata. Nani sarà un nuovo giocatore della Lazio. Zapata sarà un nuovo giocatore della Sampdoria. Infatti andiamo proprio a leggervi le grandissime notizie in tempo reale, soprattutto in questo momento che abbiamo in live. Già il nuovo giocatore del Liverpool già da ieri, il talento inglese ha svolto le visite mediche. Oggi si attende le visite mediche. Si sblocca la trattativa dell'Inter per Caramoc. Un altro giocatore per l'Inter. Mangalà si allontana dall'Inter. Poi Verona c'è il sì di Boni. Nella notte è arrivato anche il sì dell'attaccante Ivoriano all'offerta dell'ex Las Verona. Paletta nuova alla Lazio. Invece dalla Genoa, ufficiale Genoa, via Bivio e Capche. Capche. Infatti è stato ufficializzato. Andiamo a vedere altre notizie. Infatti è arrivata l'ufficialità alla Fiorentina con oggi le visite mediche. Ufficiale Bastoni, Inter dal 2019. Il comunicato dell'Atalanta sul proprio sito ufficiale. L'Atalanta comunica di aver ceduto all'Inter Alessandro Bastoni che resterà a Bergamo con una forma per il prestito fino a 30 giugno 2019. Iemmello al Benevento. Ufficiale Repic torna al Eccart. Francoforte. Ufficiale Marilungo alla Spezia. A Bari arriva il romanista Jomper. Notter Jomper. Nuc all'Atalanta. Rodrigo Tuchnuk. 17 anni a novembre. E 9 di 20 ore dell'Atalanta. Campbell alla Lipsia. Dal Bayern Leverkusen si trasferisce all'Ipsia. Un centocampista. Ufficiale Napoli. Seppe rinnova il portiere Luigi Seppe. Il portiere azzurro ha prolungato dal 2019 al 2022. Sorpresa Lofasso. Simone Lofasso, cercato da mezza Serie A, giocherà alla Fiorentina. Nian al Torino. È stato ufficializzato che Mampè Nian è giochettore del Torino. E l'accordo è stato sulla base di 20 milioni di euro. Poi un'altra notizia. Aurier al Tottenham. Che lascia il presiderment e vola al Tottenham. Vitale alla Spal. È stato dato il benvenuto al Verona. Il messico coreano del Verona. È ufficiale un giocatore del Verona. È ufficiale anche Carnedis al Wofford. Dopo avendo aspettato che il Napoli, se si fosse stato, che Reina andasse via e arrivasse Carnedis. Invece Carnedis lascia l'Udinese e vola in Premier League. Dove è stato dato a lungo. E lui invece, seppe della famiglia Pozzo, giocherà con gli Hornets in prestito per una stagione. E quindi ci sono varissime notizie. Ve le abbiamo dato subito in diretta. Scusate se mi sono un po' prolungato. Ma volevamo darvi le notizie in tempo reale. Che sono successe stamattina. Difatti, andiamo invece a parlare di tennis. Travaglia eroico. Fonini sconfortante. Paradosso italiano agli West Open. Andiamo a vedere un'altra notizia. Andiamo proprio a vedere. Vediamo un po', vediamo un po'. È una bellissima cosa invece che è un'alificazione mondiale America del Sud. L'Argentina che è in trasferta all'Uruguay. Un piccolo fan era stato allontanato dalla security perché voleva fare una foto con Messi. Messi lo richiama per una foto e lo ha anche abbracciato. Notizia veramente di brutto episodio alla vuelta di Spagna. incendiato il bus della formazione irlandese Acquacupule Sport. Incredibile. Vediamo subito la notizia che ieri Miguel Angel Lopez ha vinto davanti a Froome e Nibali. Motocross Tony Cairole vince il mondiale se vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. MotoGP è stata verificata la notizia che il GP di Thailandia nel calendario del MotoGP dal 2018 al 2020. Quindi nuovo circuito. Andiamo a vedere l'altra notizia. Basket Cecilia Zandalisi debutta alla Wien A. 6 minuti in capo e porta anche la vittoria. Amichevoli totti testimone di Roma campoense. Il ricavato dei biglietti al club brasiliano. Ci stiamo avvicinando al Gran Premio d'Italia di Formula 1. Tutto è quello che ci sarà da sapere sul calendario più veloce del calendario. Arriva Monza. Andiamo a vedere altre notizie. L'Italia ieri ha eliminato la Turchia raggiungendo il Belgio ai quarti già che stasera alle ore 20.30 ci sarà la partita di Europee di pallavolo poi ai quarti di finale. Come si dice dentro o fuori. Infatti già alle 17.30 ore italiana la Russia giocherà contro la Slovenia, la Germania giocherà contro la pubblica cieca, il Belgio con l'Italia e la Serbia con la Bulgaria. Andiamo a vedere altre notizie. Nulla di grave per il giocatore del Chedira. Solo un'infiammazione e resta in ritiro con la Germania. Andiamo a vedere altre notizie in tempo reale. Ci sono le varie partite di qualificazioni mondiali Europa. Già da stasera giocherà alle 20.45, tutte le 20.45 queste sintuose partite. La Bulgaria giocherà contro la Spezia, nello stesso girone la Francia che giocherà contro l'Olanda, Lucemburgo contro la Bielorussia, l'Ungaria contro la Lettonia, il Portogallo contro l'Israel Faurer, la Svizzera contro l'Andorra, Cipro contro la Bosnia e Zecomina, Grecia contro l'Estonia, Belgio contro Gibraltar. Poi anche le qualificazioni dell'America del Sud e Venezuela giocherà alle ore 23, ora italiana contro la Colombia. In tempo reale le qualificazioni mondiali d'Asia. La Siria sta pareggiando contro il Qatar per 1-1, Cina sta pareggiando contro l'Uberkistan 0-0, la Corea del Sud sta giocando contro l'Iran e sta pareggiando 0-0, la Italiana sta perdendo contro l'Iraq per 1-0 ancora e invece la partita del Giappone ha vinto ed è finita sul 2-0 contro l'Australia. Oggi c'è la tappa numero 12 da Motril a Archequera, sono 160 km e sono state già percorsi 54. Oggi cominciano anche gli europei di basket dove giocheranno stasera l'Italia contro l'Israele alle ore 20.30. Infatti sta già giocando la Germania contro l'Ucraina, invece alle 15.30 giocheranno l'Islanda contro la Grecia, la Slovenia ha vinto 90-81 contro la Polonia. La Lituania giocherà alle 17.30 contro la Georgia e alle ore 19 è sempre l'Italia contro Francia-Finlandia. Invece vediamo subito le notizie per domani e ci sono tantissime partite di calcio. Infatti qualificazione mondiale Europa per il mondiale della Russia 2018, il Kazakistan giocherà alle ore 18 contro Montenegro. La Repubblica Ceca giocherà contro il campione del mondo la Germania alle 20.45 con le varie partite di sempre alle 20.45 e sono la Norvegia contro la Zerbegian, San Marino contro l'Irana del Nord, Danimarca contro Polonia, Romania contro Armenia, Lituania contro Scozia, Malta contro Inghilterra, Slovacchia contro Slovenia. Comunicazione mondiale America del Sud sempre per i mondiali. Alle ore mezzanotte e 30 ore italiana il Cile giocherà contro il Paraguay. A luna di notte ore italiana l'Uruguay giocherà contro l'Argentina. Alle 2.45 ore italiana Brasile contro Ecuador e sempre alle 4.45 ore italiana Perù contro Bolivia. Domani tappa numero 13 della Vuelta di Spagna da Coin a Tomares. domani alle ore europei di Basque. Domani già alle ore 13.15 saranno le partite del Belgio contro Gran Bretagna. Alle ore 14 Ungheria contro Croazia. Alle ore 16 Serbia contro Lettonia. Ore 16.15 Spagna contro Montenegro. Ore 19.30 Romania contro Repubblica Ceca. Ore 20 Turchia contro Russia. E da domani alle ore 10 ci saranno all'inizio delle prove libere numero 1 e alle 14 ore sempre proprio nel GP d'Italia. Alle ore 14 le prove libere 2. Bene. Vi ho informato su tutto. Anche sulle varie notizie di calcio mercato. Vediamo se ci sono altre novità nell'ultimo momento. Andiamo proprio a vedere. Sì, eccola qua. Ufficiale Romero al Crotone. Il Crotone si è assicurato di Artiroles Romero. 22enne centocampista prevelevato dalla Venezuela meno. Altra questa notizia. Il bello della diretta. Ringrazio a voi per l'ascolto. Veramente di cuore. E vi mando un abbraccio a tutti voi. Di Audio Refugine Nord Est. Rd1 e Staff Radio. Spero di avervi informato su tutto. Anche sulle ultime notizie del calcio mercato. Grazie dell'ascolto. A domani. Di Audio Refugine Nord Est. È tutto. Mandi mandi. Grazie.